Diciamo che sono felice per la prestazione della squadra contro una squadra ottima, contro una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma. Dispiace per quel gol preso nel momento in cui la partita sembrava che scivolasse bene via, ma noi in quel momento lì siamo un po' a rischio. Siamo fatti infilare, praticamente c'era solo Pareko che si è buttato dentro e andava seguito. Poi abbiamo avuto un altro pari di situazioni favorevoli, ha fatto una grandissima parata al portiere alla fine su Vlaovic, però abbiamo giocato anche bene tecnicamente in una partita, comunque un ottavo di Champions, che è comunque difficile. Assolutamente sì, sarà una finale, quindi ci vorrà pazienza, tecnica, sappiamo la squadra che andiamo a affrontare. Grazie a tutti.